Quarta corsa al cirigliano di Aversa, il premio Sacco. Sono al via soggetti di quattro anni, anzi ritirati il numero due, Blister OP. Sono quindi in dodici, cinque in prima fila, sei in seconda ed uno in terza. Questa storia dei partenti fasulli andrebbe risolta una volta per tutte, per rispetto nei confronti degli scommettitori, per rispetto nei confronti di quelli che potrebbero correre ma non riescono a correre per una questione di numeri, per rispetto nei confronti dei colleghi. Ma invece sembra che quella pagnotta oramai rimasta non la vogliano più dividere con nessuno. In ogni caso, torniamo alla corsa, che è meglio. Sono al via, dicevamo, i quattro anni, dodici concorrenti agli ordini dello start, cinque in prima fila, sei in seconda ed uno in terza. Dallo steccato, Bonnie Tyler Jett, Beatrice Criss, Baba Ido, Brando Di Ruggi e Bonetto Cass. Seconda fila per Brest Dei Greppi, Bugatti Ferm, Bolta S, Beatrice FS, Boss FKS e Bagheera LZ. Terza fila per Big John LF. In partenza è Bonetto Cass ad impegnare il compagno di training, Baba Ido. Poi di dentro Bonnie Tyler Jett, partita più veloce del solito. Baba Ido sta dando strada a Bonetto Cass, mentre nelle retrovie lottano Boss FKS e Bagheera LZ, per chi deve presentarsi per primi in avanti. La lotta è serrata con Bagheera LZ, che con un gran spesa, con un gran parziale, riesce a raggiungere il leader Bonetto Cass, che chiaramente il leader rimane e per un bel po' sarà difficile da superare, diciamo almeno fino ai 1200 metri. 46, 600. Bonetto Cass e Bagheera LZ alle prese, Poi Bonnie Tyler Jett e Baba Ido spostatosi in seconda pariglia. Terzo alla corda è Bugatti Ferm affiancato da Bolta S. Quarta pariglia per Big John LF. Si arriva così al completamento del chilometro, percorsi in 1,18. Bonetto Cass seguito da Bonnie Tyler Jett. Ai suoi fianchi insiste Bagheera LZ e ai tre quarti di miglio appariglia completamente l'avversario, mentre dalle retrovie Big John LF a larghe folate raggiunge i primi due. Tre in linea, poi Big John a centropista sembra preponderante. Ingresso in retta d'arrivo. Gli altri hanno fatto male i conti e Big John LF raccoglie tranquillamente, chiudendo nel più facile dei modi, mentre Bonnie Tyler Jett è secondo a precedere lo stoico Bagheera LZ. Big John LF sugli scudi. Il figlio di ideale Luis Revasca Jet, per i colori della ventola Vecca, nelle mani di Vincenzo Luongo, si va ad affermare a media probabile di 1,16,9. Decimo più, decimo meno. Almeno questa è la nostra cronometrazione, poi il cronometrista ufficiale ve ne darà un'altra.